Dopo la firma congiunta del masterplan avvenuta tra il governatore D'Alfonso e il premier Renzi due giorni fa all'Aquila, ora si apre la fase esecutiva che vede declinarsi in tutte le forme l'ingente somma messa a disposizione dell'Abruzzo. Un miliardo e mezzo di euro da suddividere per tutte le esigenze del territorio e ad aprire le danze il porto di Ortona, dove il consigliere delegato ai trasporti annuncia investimenti, progetti e tempistica. Il porto di Ortona ottiene 53,6 milioni di euro per interventi diretti e per interventi indiretti di funzionamento e di collegamento al porto. Mi riferisco al completamento della bretella di collegamento autostrada-porto, alla riattivazione del binario ferroviario e poi gli interventi più cospicui per quanto riguarda proprio il porto di Ortona, oltre 40 milioni e mezzo per il prolungamento della diga sud e il completamento della diga forania e ulteriori interventi di dragaggio, dunque il completamento del sistema portuale regionale attraverso la funzione del porto di Ortona. Il porto di Ortona era stato al centro di un braccio di ferro che aveva visto la regione Abruzzo chiedere di cambiare autorità portuale, inizialmente assegnata alla regione Marche, per essere destinata invece a quella di Civitavecchia, in nome di un ambizioso progetto di collegamento tra mare Adriatico e Tirreno. Una partita vinta e che oggi apre nuove speranze e scenari commerciali al porto abruzzese. Abbiamo vinto questa grande partita in conferenza Stato-Regioni con l'emendamento approvato, entro 60 giorni nella pubblicazione del decreto riusciremo a mettere in campo l'alleanza con Civitavecchia. A Civitavecchia abbiamo già rappresentato questi progetti, credo che veramente il secondo tempo della vita economica non solo del porto di Ortona ma dell'economia regionale passerà qui.